Giuseppe Andretta, 40 anni di origine campana e Antonio Samperi, 50 anni siciliano, sono finiti in manetti indiziati di essere responsabili della rapina effettuata lo scorso 19 aprile ai danni di una tabaccheria a bottega di Colbordolo. I due, legati da una parentele residenti nella stessa zona dove si sono svolti i fatti, avevano minacciato il titolare con un taglierino, riuscendo a scappare con poche centinaia di euro. Uno di loro aveva agito indossando una maschera di carnevale, l'altro invece, a volto scoperto, è stato poi riconosciuto dal titolare quando i militari gli hanno mostrato una sua fotografia. Inoltre le analisi dei tabulati telefonici e la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso ai carabinieri di Montecchio, comandati dal maresciallo Fabio Costantini, di ricostruire tutti i momenti prima e dopo la rapina. Durante le indagini coordinate dalla procura di Urbino, i militari hanno effettuato anche una perquisizione domiciliare nella loro abitazione. I soggetti, pur anagreficamente risultando residenti, l'uno nella zona del comune di Vallefoglia, l'altro fuori provincia, di fatto condividevano la stessa abitazione. Fatto questo, che comunque era noto al personale della stazione Carabinieri del Posto, che attenzionava questi soggetti, in quanto, come dicevo prima, già gravati da precedenti di polizia e denunciati più volte per fatti legati a delitti contro il patrimonio. Quindi, diciamo, l'attività informativa da questo punto di vista è stata fondamentale. All'interno dell'abitazione, in particolare, sono stati trovati alcuni indumenti, in particolare dei giubbotti e delle giacche, che sia dall'individuazione fatta dalla vittima che dalle immagini delle videocamere appaiono compatibili con quelli indossati dai rapinatori la sera in cui si sono svolti i fatti. Oltre a alcuni altri oggetti che fanno, diciamo, presumere un'attività delittuosa in procinto di essere, diciamo, posta in essere o pregressa da parte degli interessati, quindi una pistola a giocattolo priva del tappo rosso e alcune maschere del tipo di carnevale che presumibilmente erano da utilizzare in altri fatti delittuosi simili. Gli arrestati sono risultati nulla facenti e quindi vivevano dei proventi e delle attività delittose. Ora si trovano nel carcere di Villa Fastigi, a disposizione dell'autorità giudiziaria per il reato di rapina pluriaggravata in concorso.